Interessante e sempre valido dal punto di vista umano del racconto ma anche dal punto di vista artistico. Questa è una delle caratteristiche del quadraro che noi tutti cominciamo ad amare e a conoscere meglio e credo che cominciamo a conoscerlo meglio in tutta l'ora. Grazie ai compagni e agli amici del quadraro per quello che stanno facendo e che hanno fatto precedente per l'opera di riqualificazione del quartiere e questo spirito che li anima e che rende giustizia a quelli che tanti anni fa si sacrificarono per la nostra democrazia e per la nostra patria. Grazie. E alla prossima, 24 aprile, vigilia della liberazione. E alla prossima, 24 aprile, vigilia della liberazione. E alla prossima, 24 aprile, vigilia della liberazione. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. E alla prossima, 24 aprile, vigilia. 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 Grazie a tutti